Ma caro il mio pupo devi sapere che Patrick nella casa del grande fratello è stato moroso a tutti gli effetti e adesso vediamo perché ti riporto indietro nel tempo, dodicesima edizione del GF presentatrice la mia amica Alessia Marcuzzi e l'incontro fatale con una donna Martina, che ricordo ancora benissimo perché io ero lì come opinionista vediamo insieme queste immagini Allora ragazzi, adesso io vorrei parlare di quella che sembra essere un po' l'ultima coppia nata nella casa del grande fratello si tratta di Patrick e Martina Martina, non so se l'hai vista bene, è bellissima Ci copoliamo Innocenti va bene Mi dai i bacini, mi dai i bacini E' proprio un amico però è un amico porco Ma che amico porco? Ma che cosa stai dicendo? Tra una storia e un'altra, so pure, cioè si raccontano storie, massaggi So pure delle carini Martina ce sta a cascare Non so se la chiamerei ancora amicizia al 100% I love you Oh my God Ma scu... I love you